Le domande su come acquistare dalla Cina aumentano sempre di più sul nostro gruppo di Geeks Deals ragazzi ebbene sì, dopo l'appuntamento di qualche settimana fa siamo tornati con la nostra rubrica e oggi parliamo di Geek Buying in questo video vi spiegheremo come poter acquistare su Geek Buying in tutta sicurezza come evitare la dogana, quale spedizione scegliere, la garanzia e chi più ne mette ragazzi quindi partiamo con calma, facciamo partire la sigla e vi spiego tutto nel video ma partiamo prima dalla domanda fondamentale, che cos'è Geek Buying? Geek Buying è un noto store online che si occupa principalmente di elettronica di consumo ma non solo infatti i loro prodotti variano moltissimo tra smartphone, notebook, accessori, kit per la riparazione di smartphone, orologi, droni e chi più ne ha più ne metta per cominciare e procedere all'acquisto di un qualsiasi prodotto dovremo prima effettuare la registrazione al sito così facendo potrete inserire i codici sconto e tutti i coupon che troverete sul canale di Geek Buying Italia gestito in collaborazione proprio con noi dove ovviamente troverete tutte le offerte in tempo reale ma non dimentichiamoci poi del gruppo di supporto Geeks Deals Group infatti attraverso questo gruppo potrete avere supporto direttamente da noi oppure richiedere coupon e codici sconto specifici ed essere aiutati nella gestione appunto degli acquisti su quale tipo di spedizione scegliere e così via una volta entrati potrete andare a consultare tutte le varie sezioni del sito e scoprire quali sono le offerte principali del momento dopo aver trovato quello che ci interessa basterà solamente aggiungerlo al carrello e procedere all'acquisto ed è proprio in questo momento che arriviamo a parlare del secondo step ovvero la spedizione arrivati a questo punto ragazzi per evitare la dogana è importante distinguere i metodi di spedizione in base al magazzino in cui è situato il prodotto infatti è possibile fare questa distinzione già nella pagina del prodotto sotto la sezione option partiamo prima di tutto con il magazzino cinese il quale è facilmente riconoscibile perché non possiede alcuna sigla del paese di provenienza quindi parliamo di tutti questi risultati facciamo poi proceed to checkout e per evitare la dogana dovremmo selezionare la spedizione EU priority line tuttavia se stiamo acquistando dei gadget da pochi euro che quindi non sono soggetti a controlli doganali basterà selezionare la spedizione registered airmail che quindi per la maggior parte delle volte è gratuita per quanto riguarda invece il magazzino di Hong Kong il discorso è diverso infatti non ci sarà nessun modo per evitare la dogana tuttavia tra tutti i tipi di spedizione presenti vi consigliamo DHL ma arriviamo infine al terzo tipo di magazzino ovvero quello europeo che possiamo appunto riconoscere dalle varie sigle presenti di fronte al modello in questo caso la dogana non è mai presente in quanto la spedizione viene effettuata dai paesi comunitari come potrete notare la spedizione viene effettuata generalmente con Bartolini oppure DHL se parliamo di un prodotto dalle dimensioni generose la particolarità di questa spedizione è che possiamo aggiungere la garanzia e assistenza in Italia o europea e quindi in questo caso ci rifacciamo alla Germania semplicemente mettendo la spunta su questa voce e pagando un supplemento irrisorio e a questo punto arriviamo infine al terzo step ovvero come funziona la garanzia? se avete effettuato l'acquisto dal magazzino in Cina oppure Hong Kong allora dovrete rispedire a vostre spese il pacco nel paese appunto di partenza in questa pagina troverete tutte le informazioni in merito alla gestione della garanzia della validità di 12 mesi se avete acquistato invece dal magazzino italiano e avete messo la spunta sull'opzione che abbiamo visto precedentemente avrete 12 mesi di garanzia in Italia o alcuni casi si parla anche di garanzia in Germania ma arriviamo ora all'ultimo punto ragazzi ovvero quello dei coupon come detto precedentemente potrete trovare tutti i coupon e i codici sconto sul canale Telegram di Geek Buying Italia in alternativa trovate in descrizione anche il link al canale e al gruppo di Geeks Deals quindi su entrambi i gruppi ragazzi potete trovare tutti i coupon che desiderate i coupon andranno inseriti in questa apposita sezione presente nel carrello una volta incollato basterà applicarlo e procedere al checkout come abbiamo visto poco fa in conclusione ragazzi acquistare dalla Cina e più nello specifico da Geek Buying non è poi così difficile anche per chi è alle prime armi con gli store cinesi basterà seguire passo passo quello di cui abbiamo parlato in questo video tuttavia qualora voleste un recap scritto qui in descrizione vi lascio il link all'articolo dove sono presenti tutti i passaggi dove trovate i link per quanto riguarda la garanzia e così via inoltre in descrizione vi lascio anche il link al gruppo Telegram per quanto riguarda il gruppo di supporto di Geeks Deals i vari canali per le offerte ovvero quello di Geek Buying e sempre quello di Geeks Deals per questo video ragazzi finisce qui spero sia stato di vostro gradimento e che vi abbia aiutato ovviamente è stato fatto per questo e quindi ragazzi per oggi è veramente tutto un saluto da Leonardo per Geeks China.it